primo libro per imparare la fotografia vediamo come sceglierlo senza buttare dei soldi ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi dico come scegliere il vostro primo libro di fotografia e vi dico anche qual è stato il mio prima di andare avanti però vi chiedo un piccolo favore se video come questi vi piacciono lasciatemi un like iscrivetevi al canale perché così potrò portarvene altri bene vediamo come scegliere in maniera consapevole il nostro primo libro di fotografia prima di tutto bisogna cominciare a capirne qualcosa quando circa due anni e mezzo fa mi sono appassionato alla fotografia mi sono messo subito a cercare su youtube dei video per imparare per migliorare e a un certo punto ho trovato il corso completo di fotografia di carlo orlandi lo trovate sul canale youtube player 2 lighting guardando questi video dall'inizio alla fine prendendo qualche appunto e lasciando anche like perché mi erano molto utili ho iniziato ad apprendere qualche concetto quello di esposizione quello di composizione ho iniziato a mettere la macchina in manuale e quindi mi sentivo già un po più sicuro delle mie capacità in realtà c'era ancora moltissimo lavoro da fare ed è per questo che a un certo punto mi sono deciso ad acquistare il mio primo libro di fotografia perché non volevo solo affidarmi a dei video ma volevo proprio studiare sui libri questo come potete immaginare mi ha aiutato a fare dei progressi perché ho iniziato a capire cos'è il bracketing la hdr la distanza per focale e tanti altri concetti e termini tecnici che sparati qua la nei video mi perdevo invece leggendo un testo ben strutturato riuscivo a farli miei con ciò non voglio sminuire il valore di guardare video perché ho iniziato da lì guardo video tuttora ne produco anche qualcuno ovviamente il ruolo di content creator è molto importante però leggere un libro studiare sul libro ci permette di essere in un certo senso indipendenti da loro apprezzare i loro video ma guardarli in maniera molto più consapevole e anche più matura se vogliamo quindi posto che abbiamo acquisito qualche nozione di fotografia magari grazie ai video ora siamo un po più consapevoli e sappiamo cosa ci interessa migliorare nella fotografia quindi se ci sentiamo all'inizio e vogliamo migliorare gli aspetti tecnici della fotografia e conoscerla in generale è inutile che acquistiamo un libro dedicato solo ed esclusivamente alla composizione ho sentito alcuni fotomotori o professionisti consigliare come primo libro di fotografia l'occhio del fotografo di michael freeman ovviamente l'ho letto è un ottimo libro di composizione ma se io ancora non so regolare il diaframma o impostare i tempi è inutile che mi leggo un libro di composizione un altro libro piuttosto famoso è fotoritocco di scott kelby ma se io ancora non riesco a gestire una buona esposizione è inutile che studio il fotoritocco quindi bisogna trovare un libro che ci dia una panoramica generale ma comunque ben trattata di tutti i vari aspetti e vari argomenti della fotografia io mi ritengo piuttosto fortunato perché il mio primo libro di fotografia è stato la guida completa alla fotografia di chris gatcom un libro che tratta davvero tantissimi aspetti della fotografia molto interessante va anche abbastanza in dettaglio quindi sapete che se vi interessa la fotografia macro avete bisogno di un certo tipo di attrezzatura se dovete fare magari un paesaggio vi serve altra e prendete consapevolezza bene di ciò che vi interessa e come si può realizzare da questo libro ho imparato le istanze per focale la hdr il bracketing i colori complementari l'utilizzo del flash e molto molto altro quindi è davvero completo l'unico problema è che non è più disponibile su amazon comunque digitando su google opac sbn aprendo il sito e cercando questo libro potete notare che è disponibile in molte biblioteche d'italia se non è vicino alla vostra zona potete chiedere anche alla biblioteca più vicina il prestito interbibliotecario e quindi potete ottenerlo gratuitamente in prestito in alternativa se volete acquistare il libro per iniziare e da tenere sempre con voi e che quindi sia disponibile non so su amazon o da qualche parte scietene uno in base agli argomenti che tratta che devono essere molto specifici e non troppo generici perché sennò dopo un po' il libro non vi serve a niente magari perché già conoscete tutto bene ragazzi vi ringrazio della vostra compagnia vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti lasciatemi il like per sostenermi e ci vediamo al prossimo video ciao